Il cinema per me è un atto genuino, è un atto sincero verso se stessi e verso gli altri. È una forma di espressione, è un ritrovo, quando ho bisogno di risposte vado a guardare un film, vado al cinema e vivo. Benvenuti a tutti, welcome everyone. Questi sono i Prisma Awards, questa iniziativa esiste da cinque anni. Presentiamo il meglio di ciò che intercettiamo del cinema breve, quindi cortometraggi ma di qualsiasi tipo di genere. Ogni mese riceviamo progetti da qualsiasi parte del mondo, di qualsiasi cultura, di qualsiasi lingua. Grazie a tutti. 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 Always having to aspire and create. We are independent and we are always dreaming about our field. We must be a dreamer. We must dream about our world and our dreams.